Ciao a tutti, nel video di oggi andremo a sbustare cose a tema Harry Potter quindi in edicola ho comprato queste 4 bustine di card di Harry Potter e al GameStop ho trovato queste nuove figure a tema Harry Potter sono delle blind bag e andremo a vedere cosa ci esce queste costavano 7,98€ al GameStop e queste invece 1,50€ in edicola andiamo ad aprire una bustina di card e poi una blind bag queste sono le card che abbiamo visto anche nello scorso video che magari vi lascio qui in alto e niente, speriamo di non trovare doppie e vediamo cosa sbusteremo allora, abbiamo Harry Potter e la pietra filosofale questa che era la copertina di Harry Potter e il calice di fuoco era il poster del film quando lo proiettavano al cinema poi abbiamo Harry e Thor nella foresta proibita nel film della Camera dei Segreti poi abbiamo Harry nello scontro finale con Voldemort e infine le due holo sono lo specchio bella e il Tesral ok, andiamo ad aprire una blind bag vi faccio vedere cosa si può trovare in queste figure abbiamo Hagrid con Thor, l'ombrello e la torta di compleanno di Harry poi abbiamo Hermione con Grattastinky Ron con una busta di caramelle tutti i gusti più uno Harry con Edwige Malfoy, Luna con i suoi occhiali e Silente e poi c'è una mystery che non riesco a capire cosa possa essere comunque queste sono le figure vedete sembrano carine, non le ho mai aperte e vediamo cosa troveremo sperando di non trovare doppie non vorrei rompere la busta ce la posso fare ok penso che questo sia l'indice con tutte le possibili ok sono componibili vedete Draco Malfoy, Ron, Hermione, Harry, Albus, Hagrid e Luna ok e vediamo chi abbiamo trovato sono belle pesanti sembrano delle gommine sperando di non trovare doppioni abbiamo trovato Ron vedete? le caramelle sì, sono delle gommine allora faccia di Ron cappello busto di Ron sciarpa e scopa andiamola a costruire ce la posso fare ok ok facciamo che metto in pausa e ve la mostro terminata ed ecco la prima figure di Ron con la bacchetta la scopa e le caramelle carina la mettiamo qui si manterrà mi sa di no ok andiamo ad aprire il secondo pacchetto di card e vediamo chi troviamo abbiamo Ron ed Hermione calice di fuoco Harry il prigioniere di Azkaban ok questo manifesto di Lucius Marfoy come mangiamorte non mi ricordo in quale film l'hanno fatto vedere questo qui poi abbiamo l'ultima regular che sono Harry Ron ed Hermione quando si teletrasportano dal fratello di Ron e muore Dobby sulla spiaggia eccola qui e le due rare sono Hermione scusa Harry ce la posso fare Ron del primo film e Hermione con la pozione polisucco belline queste due poi andiamo ad aprire la seconda figure sono un po' difficili da montare quindi ci ho messo un po' essendo combine non si mantengono benissimo ok la solita checklist la lasciamo dentro e qui vediamo oddio mi sembra un altro Ron spero di no no invece è un doppione cioè che sfiga è un doppione lo lascio dentro e vabbè proverò a rivenderlo se qualcuno è interessato me lo faccio sapere nei commenti ok andiamo ad aprire la terza bustina se gli spacchettamenti a te Harry Potter vi piacciono fatemelo sapere mettendo un like o scrivendo un commento e vedo di portarvene altri allora abbiamo il platano picchiatore che già avevamo trovato Dunstrang che avevamo già trovato Harry nel secondo film la camera dei segreti che mi sembra anche questa avevamo già trovato ah questo è Voldemort da bambino mi mancava e poi abbiamo Harry Ron e Dermione quando gli consegnano il boccino con la pietra e Hogwarts bella questa di Hogwarts speriamo di non trovare un terzo doppione penso che di queste non ne comprerò altre quindi me le aspettavo diverse non mi hanno fatto proprio impazzire vediamo se troviamo una diversa da Ron ok c'è qualcosa di diverso ma non so cosa oddio una cioccorana vedete e Silente bella questa di Silente Albus Dumbledore 1881 1996 forse la rara è la mystery questa qui perché mi sembra che nessuno abbia queste abbiamo trovato la mystery dai una doppia però abbiamo trovato la rara almeno ci è andata bene in questo non so cosa sia però ok proprio una una cioccorana vedete però dall'immagine è leggermente diversa però carina provo a montarla e ve la faccio vedere penso che si possa chiudere oppure no forse no cioè la cioccorana la riesco a inserire ma se metto la card poi non la posso chiudere ok e questa qui una cioccorana e ci esce poi anche la card di silente carina quindi abbiamo trovato due ron e questa qui poteva andarci meglio ma abbiamo trovato la mystery non so qua che rarità abbia però abbiamo trovato questa andiamo ad aprire l'ultimo pacchetto di card e abbiamo trovato il Voldemort l'ordine della finisce non so forse anche questo era un poster non mi ricordo Vingardum Leviosa Lupin questa cos'è Harry nella grotta no Harry non so dove penso non mi viene in mente che film sia e le due rare sono Ermione e Malocchio carine niente spero che il video vi sia piaciuto e iscrivetevi se volete sostenere il canale e al prossimo video ciao